Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 4 km di coda e traffico bloccato per un incidente avvenuto al km 315 tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. Si sono formati anche 2 km di coda per Curiosi in direzione opposta. Tornando in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e l'allacciamento con la 11 e tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivo con la variante di Valico-Baccheraia. In A11, coda e attratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPILI in direzione Firenze, coda e attratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici. Si è verificato un incidente in uscita a Ginestra Fiorentina provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!